Il Consiglio regionale sceglie la via della prevenzione per arginare il fenomeno del gioco d'azzardo e con voto unanime decide di vietare ai minori l'uso delle macchinette sforna bonus, insomma quelle che non danno denaro ma punti. Cambierà la legge toscana sulla partecipazione, la volontà della giunta è stata spiegata in aula dall'assessore Cioff e i consiglieri intanto hanno approvato tre documenti di indirizzo di maggioranza e opposizione. Poi cambia anche il servizio civile, le novità interessano tantissimi giovani. È stata votata la nuova legge di manutenzione che fa ordine tra le leggi toscane e aggiusta alcune incongruenze in diversi ambiti, una questione certamente tecnica ma che contribuisce a fare chiarezza nella legislazione regionale. Lavoro, si vota il bilancio di Arti, l'agenzia toscana per l'impiego, che gestisce la rete dei centri per l'impiego, l'occasione importante per fare il punto anche sull'attività svolta. Infine lo sport, che resta protagonista pure qui a Palazzo del Pegaso, stavolta è riconoscimento ufficiale e regionale. Le ali del Pegaso, è la prima volta che viene consegnato questo premio, va al campione europeo di Fioretto, lo schermidore pisano Filippo Macchi, cresciuto nel circolo di Navacchio. Intanto è stato rinnovato il bando del premio Miglior Tesi di Laurea Davide Sassoli, aperto dal Consiglio regionale e dedicato ai giovani delle nostre università. La scadenza è il 31 luglio. Noi siamo davvero contenti di aver istituito con legge un premio che ricordi uno dei più grandi uomini delle istituzioni del nostro tempo. Davide Sassoli ha cambiato l'idea di Europa, sempre più come la capacità di saper portare sui territori le tante opportunità che nascono in Europa. Dietro le mie spalle c'è una frase, una frase bellissima, La speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno. Ed è esattamente con questo spirito che sta il nostro impegno nelle istituzioni e con questo spirito abbiamo deciso di premiare le ragazze, i ragazzi, i laureati che abbiano prodotto le migliori tesi di laurea sull'Europa, perché oggi noi abbiamo bisogno di più Europa. Il Consiglio regionale ha detto sì all'unanimità ad una legge che vuole limitare il gioco d'azzardo. Non è una materia su cui le regioni possono intervenire direttamente, ma la norma approvata vieta intanto e lo può fare. A tutti i minori l'uso delle cosiddette ticket redemption, sono le macchine da gioco che non danno al giocatore il denaro, e questo le differenze dalle slot, ma dei punti sotto forma di ticket che possono essere accumulati e utilizzati poi per l'acquisto di premi. Sono presenti di solito all'interno delle sale giochi e di alcuni centri commerciali. Di fatto non si tratta di gioco d'azzardo, ma certamente possono creare dipendenza. La prima firmataria del provvedimento è stata la consigliera Anna Paris, che ne ha spiegato il significato e le finalità. Troviamo di fronte a ragazzi deboli, che più giocano, si crea un meccanismo gioco-cratificazione, un meccanismo subdolo. Subdolo perché il ragazzo non ha le capacità per individuare questo rischio, gioca, spende, ticket per poi ottenere dei gadget di un rilievo minimo, mentre si crea un sistema che poi il ragazzo cresce e diventa un elemento strutturale nell'adulto e quindi è una forma di prevenzione primaria per evitare questi grossi problemi che abbiamo nella società contemporanea. Permettetemi di dire due parole sulla mia grande soddisfazione, perché mi sono avvicinata a questo testo con grandi dubbi. Non sapevo come sarebbe stato recepito, è stato invece recepito all'unanimità. Sono pochi articoli, se voi leggerete la legge sono pochi articoli, ma non vi nascondo che il processo è stato molto lungo, perché è passato in Commissione Sanità, prima nella Commissione Sviluppo Economico, però ha trovato il consenso di tutto il Consiglio regionale. La nuova norma prevede sanzioni fino a 500 euro in caso di inosservanza del divieto e la redazione di un regolamento per le norme di attuazione. Tutti i consiglieri hanno votato a favore, lo dicevamo, così come è accaduto tra i membri della Commissione Sanità e Politiche Sociali. Andrea Ulmi, che ne è vicepresidente, è anche un medico. Sì, siamo stati tutti favorevoli, quindi all'unanimità. Siamo contenti che prenda corpo questa proposta di legge perché oggettivamente i giovani vanno tutelati e come ho detto in aula potrebbe essere una proposta di legge, quindi una legge di portata rivoluzionaria perché se si fa un buon uso di questa legge si fa capire ai giovani l'importanza di non giocare, di non diventarne schiavi perché gli schemi psicologici sono estremamente labili. Prevenire le dipendenze e non solo dal gioco d'azzardo è una grande sfida per la politica e le istituzioni e ascoltando anche le diverse prese di posizione è un impegno condiviso. È una legge che mette un altro tassello in quella che è la lotta alle ludopatie, cioè il ticket redemption che sono una forma particolare con cui le vincite vengono trasformate in oggetti di piccolo valore ma che danno la gratificazione soprattutto ai giovani, ai ragazzi, è diventata una legge e questo è un altro passaggio importante appunto. Quello che dobbiamo fare, ci abbiamo molto lavorato anche nella scorsa legislatura con Andrea Quartini, e il nostro esponente regionale oggi deputato ed esperto in tutto quello che sono le dipendenze è cercare di combattere tutte le fonti di questo che è una vera e propria piaga sociale. Un'altra cosa su cui dovrà essere fatto un grande lavoro e si sta facendo ad esempio sono i giochi online, quelli che invece danno semplicemente degli omaggi, dei regali che sono delle gratificazioni che possono essere trasformate in qualcosa di economico. Una legge importante inizia il proprio percorso legislativo quando io ero presidente della Commissione Sanità, quindi un test al quale sono particolarmente affezionato, ha fatto un percorso, si è strutturata, periodicamente viene aggiornata, vengono reinseriti altri elementi di massima attenzione soprattutto rispetto ai minori e credo che queste siano delle attenzioni doverose che il Consiglio regionale fa in una logica di prevenzione. Questo è lo spirito della legge, una legge che è datata dalla scorsa legislatura ma che ha dimostrato di produrre degli effetti importanti rispetto alla logica della prevenzione. Serve molta informazione, comunicazione, ovviamente servono delle sanzioni. La seduta si era aperta con un minuto di silenzio per ricordare Arnaldo Forlani, fu un protagonista di spicco della Prima Repubblica, dice il presidente Mazzeo, esempio di equilibrio e artefice sempre del confronto. Uno dei primi atti che viene discusso e approvato è un documento sull'attività dell'autorità regionale per la partecipazione. Ascolteremo le interviste tra una settimana quando approfondiremo il tema della partecipazione dei cittadini alle grandi scelte pubbliche. La Toscana ha fatto da apripista in passato, creando proprio la prima legge sulla partecipazione. È stata adeguata e riformata, adesso ci sarà un nuovo processo per un ulteriore sviluppo e l'Assemblea ha approvato perciò tre proposte di risoluzione, una del PD2 della Lega dopo l'informativa dell'assessore Cioffo sulla proposta di modifica sul dibattito pubblico e la promozione della partecipazione per le politiche regionali e locali. Approvata anche la seconda legge di manutenzione che interviene adesso su 16 leggi regionali in che modo? Correggendo errori materiali o imprecisioni, adeguando invii interni e esterni, inserendo contenuti che nel frattempo sono diventati obbligatori per altre disposizioni. Favorevole alla maggioranza si sono astenute le opposizioni. Di rilievo l'approvazione del bilancio di previsione del 2023 di Arti, l'Agenzia Toscana per l'impiego vale circa 84 milioni. Nel dettaglio lo illustra la Presidente della Commissione Sviluppo Economico. Evidenzia innanzitutto che c'è un bilancio che cresce di circa il 19% e una grande attività. Quindi al di là dei numeri di un bilancio in pareggio, abbiamo segnalato, la stessa dottoressa Cannoni, ci ha raccontato quello che è il lavoro che stiamo facendo, che la Regione Toscana sta facendo e Arti in particolare in questi primi mesi. Inizia una fase nuova, una fase importante per il lavoro e per la formazione del lavoro, perché grazie alla collaborazione con il Ministero del Lavoro e con Ampal, ma anche alle risorse che arriveranno nel Fondo Sociale Europeo, noi dovremmo avere attenzione e cura sui territori per incrociare la domanda e l'offerta. Il mercato del lavoro sta cambiando e bisogna essere capaci di incrociare le esigenze delle imprese e delle aziende con le esigenze dei lavoratori. L'Arti gestisce i centri per l'impiego, il personale assegnato in totale di 800 unità ed eroga servizi per lavoratori e imprese. L'agenzia l'anno scorso ha servito dunque 16.000 aziende, 240.000 utenti, ha attivato 620.000 iniziative di promozione per l'occupazione e l'inserimento al lavoro. Positivo da parte di Italia Viva, un'agenzia che cerca ovviamente di lavorare rispetto all'impiego ovviamente del personale, la ricerca dell'occupazione, della prima occupazione, il ricollocamento delle persone, il tentativo ovviamente di migliorare la qualità della vita della persona e trova la parte nostra massimo sostegno, è la logica del lavoro che deve ovviamente nobilitare l'uomo e non quella dei sussidi, al motivo per il quale noi abbiamo sempre e convintamente investito sulle politiche di arti, che sono delle politiche di carattere regionale che però tengono conto anche delle impostazioni di carattere nazionale. L'agenzia fa sicuramente un grande lavoro per tutto quello che riguarda le pratiche amministrative che spesso i disoccupati o coloro che hanno lavoro stagionale devono fare, si pensi al grande lavoro che sostengono ogni settembre quando tutti i lavoratori stagionali vanno a farne la richiesta e spesso si trovano appunto tutti questi dipendenti a trovarsi ad affrontare una grande quantità di persone con difficoltà anche logistiche per riuscire a soddisfare tutti i bisogni che ci sono. Da un certo punto di vista le esigenze maggiori è quello di colmare il mismatch, cioè l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e ancora su questo si fatica perché il problema è strutturale, non attribuibile ad arti. Se si pensa che in altri stati come l'Olanda, la Germania, si hanno quattro volte tanto i dipendenti per le agenzie dell'impiego, si capisce anche il valore che viene dato a questo tentativo di incontrare la domanda e l'offerta. Votano contro i consiglieri di centro-destra e la consigliera del gruppo misto che con il suo intervento sollecita alcune riflessioni su altri aspetti ancora. Diciamo oggi anche alla luce della riforma sacrosanta dell'edetto cittadinanza si porrà davvero il tema di formare ancora meglio quei profili professionali che appunto oggi vengono richiesti dalle imprese. Per non parlare poi di tutto quello che è l'ambito dell'occupazione giovanile del quale poco si accenna. Molto generica anche la parte sui programmi, vengono rifinanziati alcuni programmi ad esempio che riguardano lavoratori che sono stati colpiti da crisi aziendali però è un settore che naturalmente meriterebbe una maggiore attenzione e ripeto anche un maggior monitoraggio da parte del Consiglio regionale. Quindi il nostro giudizio è un giudizio ad oggi negativo soprattutto perché dovremo vedere da qui al prossimo futuro come le risorse verranno effettivamente spese attraverso un'attività intensa di monitoraggio. Nel giorno in cui il commissario Figliuolo con il presidente Gianni visita le zone più colpite dell'alluvione di metà maggio il Consiglio regionale approva una mozione presentata dalla consigliera Tozzi per il supporto ai comuni nella progettazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Si registrano anche le nuove modifiche al reticolo idrografico decise a maggioranza dall'Assemblea. Le variazioni riguardano adeguamenti tecnici per la realizzazione di nuove infrastrutture che comportano la modifica dei tracciati, una migliore definizione geometrica di tratti nel reticolo esistente e l'inserimento o l'esclusione di alcuni tratti di corsi d'acqua. E poi è stata modificata la legge sul servizio civile, viene adeguata in pratica la normativa nazionale, si semplificano le procedure e si prevede la possibilità, salvo alcune eccezioni, di svolgere il servizio civile due volte. Sono tante le mozioni discusse, molte sono state anche approvate nelle ultime sedute del Consiglio, come quella che chiede lo spostamento del rientro a scuola da venerdì 15 a lunedì 18 settembre, o quella che chiede che la Toscana Occitana, la regione francese ad ovest verso i Pirenei, tolga il riferimento alla nostra regione, sembra proprio che alla fine lo farà. Ce n'è una che riguarda il diritto alla casa e che chiede di garantire il rifinanziamento delle principali misure di sostegno all'affitto, come il Fondo Sociale per l'Affitto e il Fondo Morosità Incolpevole. Il documento viene presentato dal capogruppo del Partito Democratico. Sì, una mozione che abbiamo ritenuto doverosa perché in un momento di particolare difficoltà, dopo la pandemia, con l'inflazione a due cifre, con il caro energia che sta minando il bilancio delle famiglie, il Governo nazionale non ha messo nessuna risorsa per quanto riguarda uno strumento fondamentale per intervenire e attenuare il disagio delle famiglie in difficoltà. Vale a dire il Fondo per il Contributo Affitti, che riguarda circa il 20% delle famiglie toscane, il fondo per quanto riguarda l'amorosità incolpevole, risorse per intervenire nella ristrutturazione degli edifici ERP che si liberano e vanno risistemati prima di essere riattribuiti. Il voto è unanime dopo che vengono accolti degli emendamenti delle opposizioni che puntano alla diversa chiave di lettura dei ritardi e dei disservizi. In sostanza abbiamo chiesto uno di riconoscere quello che il Governo ha fatto, perché è vero che il tema del Contributo Affitti è importante, va rifinanziato e Fratelli d'Italia lo sta chiedendo attraverso i propri sindaci, uno su tutti Alessandro Tomasi a Pistoia, di rifinanziare il Contributo Affitti, ma va riconosciuto, se non si vuole fare campagna elettorale, che il Governo ha fatto comunque dei provvedimenti per la lotta alla povertà, la spesa alimentare, il bonus bollette, quindi di riconoscere quello da una parte e dall'altra, siccome poi il Partito Democratico ormai li conosciamo, come si dice, quando gli dai un dito prendono il braccio e ovviamente nella richiesta di rifinanziare il Contributo Affitti hanno pensato bene di chiedere al Governo nazionale anche che si accollasse la ristrutturazione di tutto il patrimonio dell'inizia residenziale pubblico toscano che in 30 anni di incurie e di cattive manutenzioni da parte dei loro sindaci oggi va recuperato perché molte di quelle case sono sfitte. Noi abbiamo chiesto giustamente che il Governo finanziasse anche questo tipo di intervento, ma che su questo tipo di intervento comparticipasse anche la Regione Toscana. Le due emozioni andavano nella direzione sempre di andare a chiedere al Governo quando invece ci sono anche delle responsabilità della Regione e dei vari comuni. Ci sono due soluzioni, una potrebbe essere, non soluzioni, ma sicuramente che possono aiutare, uno è l'allenazione di chi occupa le case popolari e avrebbe l'opportunità di poter comprarsela e riscattare eventualmente la casa. Credo che quando uno ci vive da più di 20 anni o 30 anni si sente ormai casa sua. L'altra che secondo me la Regione ha la necessità di dover fare è quella di riorganizzare e di ottimizzare soprattutto le lode perché come ho detto nell'intervento in aula sono più i componenti delle lode tra poco delle persone che hanno bisogno degli appartamenti. La seconda mozione approvata a maggioranza però è del Movimento 5 Stelle ed è sullo stesso argomento. Nel testo ci sono molti riferimenti all'emergenza a sfatti e alle difficoltà di assegnazione delle case popolari. Selezioniamo due eventi tra i tanti di questi ultimi giorni che hanno trovato spazio e visibilità nella sede del Consiglio regionale e anche nei nostri telegiornali. Il primo è la consegna di un riconoscimento a un campione dello sport, il pisano Filippo Macchi, tesserato delle Fiamme Oro che a giugno ha vinto gli europei di Fioretto, nasce a Ponte d'Era, si forma a Navacchio, ora ambisce a nuovi prestigiosi traguardi in vista poi delle Olimpiadi di Parigi del 2024. Un anno è lunghissimo quindi possono succedere tantissime cose, io ovviamente non ho aspettative, io ora abbiamo un mondiale in casa peraltro che sarà a Milano, un grande appuntamento e sarà una tappa del percorso dove ogni gara sarà una gara a sé. I rivali più grandi ad oggi sono gli americani che per quanto riguarda la squadra siamo uno e due del ranking mondiale, però ci sono tantissimi campioni nei primi centri del mondo, Giappone, Hong Kong, Francia e non dimentichiamoci che manca la Russia. Alla cerimonia di consegna delle ali del Pegaso, un premio nuovo destinato a chi davvero spiccherà ancora di più il volo dalla Toscana, c'erano il presidente e altri membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Noi abbiamo voluto premiare le eccellenze, i ragazzi che ce la fanno Toscani e lo facciamo con questo nuovo riconoscimento, le ali del Pegaso. È un modo per dirgli di volare in alto, di continuare a inseguire i propri sogni, le proprie ambizioni. È un modo per dirgli che le istituzioni gli sono vicino. Questo premio nasce in collaborazione con Polimoda che lo ha realizzato e oggi per la prima volta lo mettiamo a disposizione di cittadini, di ragazzi e ragazzi toscani che possono farcela e possono farcela ancora di più. Questo premio, le ali del Pegaso, è sicuramente un premio molto significativo perché si rivolge appunto agli under 35 della nostra regione ed è giusto che le istituzioni diano attenzione, diano particolare attenzione a quelle ragazze e a quei ragazzi che sanno ottenere successi anche nello sport, non soltanto nello sport, sicuramente nello sport in una tradizione, quella del fioretto, della scherma, della sciabola, insomma, che vede la Toscana, vede Pisa, in particolare comunque ai vertici del mondo da sempre, quindi siamo particolarmente contenti, particolarmente soddisfatti e ci auguriamo insomma di continuare a rimanere sul tetto del mondo e d'Europa per ancora tanti anni. E poi c'è la storia unica davvero di Caterina Bellandi, di Zia Caterina, la famosa tassista di Firenze conosciutissima per la sua opera di assistenza ai bimbi malati di tumore, li accompagna con allegria, con leggerezza sul proprio taxi colorato, pieno di peluche all'ospedale Mayer. La sua storia la racconta Alessandra Cotoloni nel libro Taxi Milano 25, in viaggio con Zia Caterina, una rivoluzionaria dei nostri tempi. È stata un'esperienza direi unica, perché questa è stata la possibilità di poter conoscere la Zia Caterina e quindi noi abbiamo un personaggio così importante in Toscana, che fa una cosa così bella e così importante. Poi è stata la possibilità di veramente incontrare tante persone, un arricchimento costante e continuo, perché ogni volta quando sali nel taxi c'è un'esperienza che non sai nemmeno quale tipo di esperienza ti possa aspettare, però esci fuori, scendi fuori, che dal taxi ti senti veramente tanto arricchito. La vita è fatta di incontri e l'incontro è quello che ti cambia, che rivoluziona quel io in noi, in noi, in lui, nel caso in cui il nostro cuore sia aperto all'infinito. Alla presentazione in sala con Falone sono intervenuti il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio regionale, Marzello Casucci, oltre all'assessore Marras. È una pubblicazione che racconta il cuore grande della Toscana, uno dei volti più belli della nostra regione. È un volto che racconta la solidarietà, la capacità di star vicino a chi soffre, di trasformare le paure, le preoccupazioni in speranza, in gioia. Zia Caterina è questo, è una forza della natura che arriva al cuore di ciascuno di noi e che fa sorridere chi dentro piange. Oggi siamo qui a parlare di un rivoluzionario dei nostri tempi. La rivoluzione che si basa sulla solidarietà, sulla capacità di chiedere, ma anche di dare aiuto. Dovremmo farci tutti una riflessione interiore e capire che chi si dà agli altri è veramente un esempio imperdibile per la nostra meravigliosa Toscana e dovremmo ricordarcene tutti i giorni. Prima di salutarci rivediamo dai nostri telegiornali alcune immagini dell'inaugurazione di un altro intervento finanziato dal bando Rigenerazione Toscana su un'area pubblica è quella di Via Battisti nel centro storico di Ponzacca. È stata riqualificata e resa veramente inclusiva. Ne parleremo meglio tra sette giorni. Per ora ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento dunque a venerdì 21 luglio subito dopo il nostro Tg della Sera. Ogni giorno però nei nostri Tg trovate tutte le notizie del Consiglio regionale. Grazie a tutti.